Sono le mani del diverso, ma io sono il migliore. Mi hanno uscito mentre facevo la intro. I migliori perdono sempre. Si, però mi discusa, ma mi dovete dare. I migliori... Ogni tanto perdono... Perdono sempre ogni tanto. Al obiettivo quello là con le cattane che mi ha scoperto molto. Ecco, non è lui... Non è che non deve essere l'unico che non si trova con le cattane grandi per bloccare spallone. Ma dove sta? Aspetta, ma ce l'ho andato o no? Si sta ancora il cavallero. Si, però dove sta? Ragazzi... Io chiederò una proposta a uno youtuber. Passate presa al suo canale. Un canale pro che ha 121 iscritti. Non credo che farà una collaborazione con me. Et... Un canale pro che ha 122 iscritti. è o sino se serve. Un canale pro che ha 122 iscritti. Qui io dico. Qui qui fu? no raga ma non lo trovo più come acquistato ma no ci rimangò male vieni qua tu vedo qualcuno vedo una persona con qualche cazzana che la se vuole più combattere però ma no lui no ecco qua è stato come che c'è fatto? Grazie a tutti 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 Iscrivetevi al canale Saluti Ciao 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 Ciao